Il Tar boccia e ricorsi. Dopo ore di attesa l'organo di primo grado della giustizia amministrativa si è pronunciato decidendo che il governatore Frattura rimarrà in carica. Il Molise non tornerà alle urne, respinto anche il ricorso di Gianluca Cefaratti, mentre sospesa rimane la posizione dell'Italia dei valori. Isernia Brasiello lascia la Camera di Commercio, un emozionato primo cittadino del capologo Pentro durante la giornata dell'economia salutato che ha operato insieme a lui per otto anni. Il neo eletto primo cittadino ha poi annunciato come quello di Palazzo San Francesco, sarà un esecutivo a sette. Piano sanitario, il comune di Termoli diffida la regione. L'azione legale avviata dal sindaco Antonio Di Brino è rivolta al presidente Frattura in qualità di commissario ad acta del piano di rientro dal deficit. Lo stesso è stato invitato ad adottare tutti i provvedimenti per la revoca della rete dei tagli. Sport, tutto pronto per il primo Memorial Gino Scasserra. Domani al Via, al nuovo stadio Romagnoli di Campobasso, la manifestazione sportiva per ricordare l'ex capitano dei Rossoblu in programma, una partita tra le vecchie glorie e gli artisti molisani. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito nei titoli. In apertura c'è la politica ai ricorsi elettorali perché dopo ore di attesa all'organo di primo grado della giustizia amministrativa si è pronunciato decidendo che il governatore Frattura rimarrà in carica. Il Molise non tornerà dunque alle urne, respinto anche il ricorso di Gianluca Cefaratti, mentre sospesa rimane ancora la posizione dell'Italia dei Valori. Sentiamo. Per il primo grado della giustizia amministrativa il Molise non tornerà alle urne. Dopo ore e ore d'attesa la politica molisana ha conosciuto finalmente il risponso del ricorso sull'annullamento delle elezioni. Il Tarra ha infatti respinto l'istanza inoltrata da due cittadini elettori del centrodestra, Gianluca De Santis e Beniamino Mastroiacomo, che chiedevano il ritorno al voto dei molisani per una serie di presunte irregolarità che riguardavano l'autentica delle firme e l'utilizzo del simbolo di partito. Situazioni queste che sarebbero state rimarcate in modo particolare rispettivamente per i comunisti italiani e il Movimento 5 Stelle da un lato e per il partito democratico dall'altro. Mentre inevitabile sarà ora il ricorso dei legali del centrodestra al Consiglio di Stato, il centrosinistra del governatore Frattura può per il momento tirare un sospiro di sollievo. Per la verità eravamo sereni. Lo commento favorevolmente e soprattutto lo commento ringraziando ancora una volta i 37.000 molisani più di quanti hanno dato la fiducia al centrodestra. 86.000 voti significa una marea di molisani che malgrado i 5 candidati hanno scelto la proposta di governo del centrosinistra. E soprattutto lo apprendo favorevolmente dopo che è stato evidentemente bocciato quel tentativo di riforma algebrica che qualche legale del centrodestra ha provato a mettere in campo immaginando di poter sommare mele e pere, cosa che invece evidentemente le ferre regole della matematica non permettono. Respinto da parte del Tarra anche il ricorso inoltrato da Gianluca Cefaratti che rivendicava il seggio a discapito proprio dei pentassellati Antonio Federico e Patrizia Manzo. Sospeso è stato invece il giudizio per il terzo ricorso, quello presentato da Cosmo Tedeschi dell'Italia dei Valori che chiedeva una ridistribuzione dei seggi per la provincia di Isernia che rivendicava il proprio ingresso a Palazzo Moffa a discapito di Cristiano Di Pietro. Adesso prima di conoscere le motivazioni dei giudici amministrativi rimane da risolvere la questione sollevata ieri in udienza dall'avvocato del centrosinistra Salvatore Di Pardo relativamente la mancata notifica dei ricorsi proprio per gli esponenti del Movimento 5 Stelle Federico e Manzo per il loro recente cambio di residenza. Rinunciando a più del 70% dell'indenità da consigliere regionale Patrizia Manzo e Antonio Federico hanno già messo da parte quasi 30.000 euro. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle a Palazzo Moffa infatti stanno percependo soltanto 2.500 euro netti. Il resto dello stipendio tornerà sotto forma di servizi alla comunità. Dalla loro rinuncia sarà creato un fondo regionale di utilità sociale in attesa dei risultati del sondaggio col quale i grillini hanno chiesto dal loro blog se i risparmi dovranno essere utilizzati per il microcredit, il diritto allo studio o il volontariato. Il Restitution Day prova così a colmare la loro iniziativa legislativa alla disciplina dell'Istituto della Rinuncia alle indennità non ancora approvata dall'Aula Consiliare di via 4 novembre. E intanto con la sentenza numero 138 la Corte Costituzionale ha bocciato il bilancio consuntivo 2011 della Regione Molise per la consulta. Infatti circa un miliardo e mezzo di euro attivi sarebbero stati rendicontati ma non giustificati. Un pesantissimo verdetto quello dell'Alta Corte che per l'attuale governatore Frattura è la tragica eredità lasciata dalla precedente amministrazione. Sentiamo. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il bilancio 2011 della Regione Molise. A stabilirlo una sentenza depositata solo ieri che ha bocciato in modo particolare l'articolo 7 della legge 23 del 2012. Tale norma era stata impugnata dal governo Monti sotto tre profili diversi ma quello accolto ne ha riguardato solo uno, ovvero quello dei residui. Per la Corte Costituzionale infatti il bilancio dell'Einte di via Genova non fornisce nessuna giustificazione per un numero rilevante di residui attivi, pare a circa quasi un miliardo e mezzo di euro. In pratica nel rendiconto questi valori sono assunti ma non dimostrati e sono stati espressi attraverso un'aggregazione suscettibile di alterare le risultanze finali del conto. Un conto quest'ultimo che a sua volta deve poter essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica. Una spada di Damocle che ora pesa sulla testa del Molise intero e che potrebbe condurre la regione a un vero e proprio default. Per il presidente Frattura tale bocciatura da parte dell'Alta Corte è un terribile verdetto che pone l'attuale amministrazione ad avere un'eredità pesante perché secondo Frattura il governo Iorio che li ha preceduti ha tralasciato gli obblighi di legge. Sempre secondo Frattura le attuali opere di risanamento messe in atto dall'attuale centrosinistra sono soffocate dai vecchi disastri. Lo stesso numero uno dell'ente di Via Genova ha poi fatto sapere come la delegazione parlamentare del PD si sia già attivata per trovare un rimedio con il governo centrale. Ovviamente non è mancata poi la stoccata all'attuale minoranza di Palazzo Moffa alla quale Frattura ha chiesto di mettere da parte le polemiche e iniziare a operare per il bene del Molise. Intanto proprio tale questione è stata affrontata dalla commissione d'indagine sui conti dell'ente avviata in consiglio regionale presieduta da Giuseppe Sabusco. Un aiuto concreto alle piccole imprese potrebbe arrivare invece dal disegno di legge licenziato in prima commissione sull'attivazione in Molise di un prestito inferiore a 25 mila euro destinato a finanziare micro imprese privati in difficoltà che da soli non riuscirebbero ad aprire un'attività. Un primo passo verso l'attivazione di questo importante strumento ha dichiarato il vice presidente del consiglio regionale Cristiano Di Pietro. Ora toccherà l'aula approvare definitivamente la proposta di legge. Mi preme però far presente che se il progetto finanziario darà risposte interessanti attraverso successive deliberazioni sarà possibile anche un incremento del fondo. Un passaggio questo che io stesso ho chiesto di prevedere. Ha poi concluso Di Pietro. Intanto in mattinata si è riunito proprio il comitato di sorveglianza del programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo della Regione Molise. Un incontro durante il quale sono stati illustrati i risultati conseguiti, le criticità e le prospettive del programma operativo. Sentiamo. Qualità, tempi certi e condivisione con un partenariato sempre più attivo. Il nuovo corso presentato dal presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura per la programmazione 2014-2020 trova la sua prima espressione nella riunione del comitato di sorveglianza convocato dall'autorità di gestione. Nuovo metodo e nuovo approccio anche per il bilancio del programma operativo regionale FESR 2007-2013. Facciamo il punto sull'avanzamento del fondo FESR anche su questo con l'obiettivo di impegnare le risorse residue nella logica di condivisione che abbiamo lanciato per la nuova programmazione per il prossimo sestegno. Cercando di ottimizzare anche i residui delle risorse della precedente programmazione con la logica di accompagnare soprattutto le imprese ad affrontare al meglio le difficoltà contingenti. Il comitato di sorveglianza ha tracciato dunque il bilancio dell'attività analizzando e condividendo il rapporto annuale di esecuzione 2012. Del contributo totale di oltre 192 milioni di euro è stato impegnato il 69,3% e speso il 46,9% per un totale di 90 milioni di euro di pagamenti monitorati. Quattro gli assi portanti delle attività svolte e in programma. Innovazione e imprenditorialità, energia, accessibilità, ambiente e territorio. Spostiamoci ora a Isernia dove Luigi Brasiello ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della Camera di Commercio del capoluogo Pentro e lo ha fatto proprio presso l'ente camerale che ha guidato per otto anni. Il primo cittadino ha poi parlato anche della giunta del Comune di Isernia che dovrebbe essere a sete ma tutte le riserve saranno sciolte soltanto la settimana prossima. Vediamo. Luigi Brasiello ha lasciato la presidenza della Camera di Commercio Pentra. Visibilmente emozionato e commosso il sindaco di Isernia le dimissioni le ha ufficializzate stamane in occasione dell'undicesima giornata dell'economia. Oggi per me è una giornata difficile, difficile perché io ho vissuto otto anni splendidi in questa Camera di Commercio. Ho avuto l'opportunità veramente di fare una palestra di vita, di esperienza, di situazioni che poi mi hanno messo nelle condizioni di poter fare il sindaco di questa città. E devo dire che oggi non solo sono emozionato ma ho anche questo peso di dovermi dimettere e di lasciare un'ente che io porto ancora con me, porto ancora nel cuore. Ancora non mi rendo conto di quello che farò tra qualche minuto però lo devo fare ma sono certo che la Camera di Commercio mi sarà vicina negli anni futuri. Cosa lascia la Camera di Commercio? Ci lascio ancora il cuore, nel senso che io ero molto addendrato al sistema. Ieri lo dico per i telespettatori che ci stanno seguendo, ieri io sono stato a Roma e lì mi hanno fatto trovare 80 presidenti di Camera di Commercio che mi hanno voluto salutare. Per me questa è stata la sensazione che in otto anni abbiamo lavorato bene, siamo stati tutti una squadra, l'affetto che ho ricevuto ieri è stato incredibile e chiaramente questo mi fa pensare che per me oggi è veramente un giorno difficile. Luigi Brasiello ha parlato anche della sua squadra che è in via di definizione, tuttavia le trattative sono ancora in corso e il Toto Assessori continua così a tenere banco. Io l'ho sempre detto, il numero non è tanto importante, però siamo sulla dirittura finale. Io lunedì vedrò tutti i partiti, li ho già incontrati singolarmente, mi hanno espresso le loro richieste, definiamole così. Tranquillamente sto facendo una valutazione complessiva di tutto quello che ho sentito, lunedì mi incontrerò con tutti loro, tutti quanti insieme e credo che all'inizio della settimana, a metà settimana avremo il numero degli assessori che sarà, ripeto ancora una volta, adeguato alle esigenze della città, certamente però quello che non voglio fare è partire con il piede sbagliato. Quindi se ci sarà qualche giorno da valutare, da fare una riflessione ulteriore una riflessione ulteriore, lo farò certamente, proprio per partire con il piede giusto e per partire con una squadra che possa essere una squadra rappresentativa di tutta la coalizione. L'undicesima giornata dell'economia è stata celebrata anche presso la Camera di Commercio di Campobasso nell'occasione è stata illustrata e discussa l'analisi sullo stato dell'economia territoriale nell'anno 2012, realizzata in collaborazione con il Centro Studi di Union Camere Molise. Ritorniamo a Isernia perché c'è stata una clamorosa forma di protesta dei dipendenti della DR Motor da mesi senza stipendio, un presidio in pieno centro cittadino per denunciare all'opinione pubblica l'azione messa in atto dall'azienda di macchia di Isernia comunicando i licenziamenti di tre dei 59 operai tramite raccomandata a provvedimenti questi che la FIOM CGL ritiene ingiussi. Sentiamo. All'ADR Motor di macchia di Isernia la situazione è precipitata. Dall'ultimo tavolo svoltosi la settimana scorsa in prefettura non è stato fatto nessun passo in avanti. Anzi, i 59 dipendenti da mesi in cassa integrazione ancora aspettano di ricevere le mensilità arretrate, il TFR e la tredicesima del 2012. E nessuna risposta è stata fornita dal presidente della DR Massimo Dirisio, un silenzio che sta portando i lavoratori all'esasperazione e a clamorose forme di protesta come quella di stamane in piazza stazione a Isernia. Il presidio è stato indetto anche per denunciare all'opinione pubblica che l'azienda ha messo in atto un'azione ritorsiva comunicando il licenziamento di tre dei 59 operai. Siamo in Isciopero dalla fine di maggio a oggi. Risposte dall'ADR non abbiamo avuto tranne quella gravissima fatta l'altro ieri con tre raccomandate che hanno ricevuto tre lavoratori dei 59 che sono stati licenziati. È un atto gravissimo che è stato fatto da parte della società durante uno sciopero, una protesta legittima dei lavoratori perché stanno rivendicando i loro diritti come lo stipendio. Le motivazioni contenute in quei licenziamenti sono inconsistenti e infondate. Noi impugneremo, anzi abbiamo già impugnato i licenziamenti, andremo per le vie legali. Continueremo questa lotta con presidi finché non avremo risposte dall'istituzione della stessa DRMoto. Angelo Pinelli, Emilio Berardi e Filippo Esposito, i nomi dei tre lavoratori licenziati solo per aver protestato venerdì scorso presso la Villa Comunale di Isernia. Ribadisco di nuovo che la nostra motivazione è lo sciopero che abbiamo manifestato davanti alla Villa Comunale e per questo motivo hanno ritenuto opportuno di mandarci questi licenziamenti a me e altri due miei colleghi. Questo è stato il motivo. Poi perché abbiamo rivendicato i nostri stipendi, è quello che noi stiamo ribadendo da mesi se non da anni. È monoreddito lei? Sì, sì. Io sono l'unica persona che porta reddito a casa e ho tre bambine, moglie, eccetera, tutte le esigenze possibili e immaginabili. Senza gli stipendi e senza il lavoro come si fa ad andare avanti? Guardi, è una cosa tragica perché non so come stiamo facendo, però purtroppo per la sopravvivenza dobbiamo cercare di andare avanti e non abbatterci. Intanto proprio dalla DR Motor a seguito della manifestazione hanno fatto sapere che tre dipendenti sono stati licenziati per aver assunto condotte che avrebbero compromesso la fiducia nei confronti del datore di lavoro per l'azienda dunque trattandosi di licenziamento per giusta causa in base alla normativa vigente. Nessun preavviso è stato riconosciuto e quindi il rapporto di lavoro è cessato al momento stesso della ricezione della relativa comunicazione. Intanto c'è preoccupazione anche tra i dipendenti della Fisiomedica Loretana di Toro che sono tornati nuovamente a presidiare la regione per chiedere la convocazione urgente di un tavolo tecnico con il governatore Paolo Di Laura Frattura. Sentiamo. I dipendenti dell'Istituto di Riabilitazione Fisiomedica Loretana di Toro si sono recati nuovamente presso la sede della giunta regionale per chiedere come confermato dal responsabile medico Rosario Paolo Tamburro la convocazione urgente di un tavolo tecnico con il presidente Paolo Di Laura Frattura. Questo chiediamo che ci sia finalmente chiarezza tra le parti per poter avere poi la possibilità di evitare tutto quello che catastroficamente e che purtroppo drammaticamente potrebbe succedere in termini di licenziamenti, di riduzione di personale e quant'altro. Non ho altro da aggiungere se non che continueremo fino a quando la parte politica non ci darà e fisserà la data per questo importante incontro. Non è una presa di posizione così capotica. Lei ha detto poco anzi da quando state facendo presidio. Da qualche giorno nella speranza di trovare questa data. Preoccupazione tra i dipendenti che non percepiscono gli stipendi da mesi che chiedono chiarimenti sulle disparità di trattamento rispetto ad altri istituti. Dal 2007 al 2011, mentre la fisiomedica partiva da un tetto di spesa di 2.185.000, 2.185.000 è stata portata a 1.834.000. mentre altre strutture, qui abbiamo per esempio il carcerci di Venafrica, che da un tetto di spesa di 3.625.000 è stato addirittura aumentato. E così pure Villa Maria. Quindi noi quello che chiediamo è di essere trattati come gli altri, di essere pagati come gli altri. Noi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo ricevuto solo l'acconto dell'80% del primo bimestre, mentre altre strutture vengono pagate regolarmente e mensilmente. E quelle strutture extra-regionali vengono pagate addirittura il 100%, oltre che pagano di più come retta per il paziente, che fa le stesse cose che farebbe da noi. Noi chiediamo perché ci debbano essere queste differenze, perché non si può sfruttare al massimo il potenziale della fisiomedica, il ripristino delle famose 26.000 giornate lavorative, che non solo non richiederebbe il licenziamento di nessuno, ma addirittura l'occupazione di qualche altra unità. E' a costi di meno di quando sta spendendo attualmente la regione per mandare i pazienti fuori. Spostiamoci ora a Termoli, dove il sindaco Antonio Di Brino ha diffidato la regione Molise per il piano sanitario regionale. Si tratta di un atto che segue tutte le altre iniziative contro un piano che penalizza il diritto alla salute dei cittadini del basso Molise. Il commento del primo cittadino vediamo. Il sindaco di Termoli Antonio Di Brino, con l'assistenza dello studio dell'avvocato Vincenzo Iacovino, ha diffidato la regione Molise, invitandola alla revoca, anche in autotutella, del piano sanitario regionale adottato dal commissario ad acta Filippo Basso. Un atto di diffida è stato prima di tutto indirizzato al presidente della giunta regionale del Molise, Frattura, che in virtù del ruolo assunto nel comparto sanitario, oltre ad assumere opportune iniziative, dovrebbe garantire l'autonomia regionale e il rispetto delle norme costituzionali. Nello stesso documento è stato poi diffidato il Consiglio regionale, anche questo organo che dovrebbe impugnare l'atto dinanzi la Corte Costituzionale. Ad adottare opportuni provvedimenti, anche l'assessore regionale alle politiche e sociali, Michele Petraroia, il direttore generale dell'ASREM. È stata inoltre diffidata anche la conferenza permanente per la programmazione sanitaria della regione Molise. La stessa dovrà così prendere atto delle motivazioni contenute nella diffida e condividerne il contenuto, facendosi parte attiva per la risoluzione della problematica denunciata. Si tratta di un atto che segue tutte le altre iniziative volte a neutralizzare la proposta di piano sanitario regionale del commissario ad acta Filippo Basso e del subcommissario Rosato, ha commentato il sindaco di Brino, che penalizza l'offerta sanitaria dell'ospedale Santimotio e dell'intero Basso Molise, è considerata anche la prevista chiusura dell'ospedale di Larino. Quella di di Brino non è solo una contestazione sulla legittimità dell'atto, ma anche una presa di coscienza su tagli trasversali effettuati senza tener conto delle esigenze di cura dei cittadini del Basso Molise. Inoltre, proprio il depotenziamento sanitario dell'area adriatica e la prevista chiusura dell'ospedale di Larino farà aumentare la mobilità passiva dei cittadini verso gli ospedali delle regioni limitrofe. Promozione territoriale e turistica, impulso a una maggiore conoscenza dell'immenso patrimonio di piante officinali convenistica di ampio respiro di medicina biointegrata. Queste le linee guida che animeranno l'edizione nazionale del planta tour 2013 denominata Natura Blu che dal 18 al 23 giugno si svolgerà in alcuni comuni molizzani promossa dalla Biogruppo e dallo stabilimento delle officine naturali. Medici, farmacisti, naturopati ed erboristi giungeranno a Bagnoli del Trinio per trascorrere una settimana a stretto contatto con le bellezze locali. Punto focale del percorso naturalistico saranno le strutture ricettive e ricreative scientifiche della Domus Area. Intanto a Termoli da settembre partirà un progetto di riqualificazione urbana che interesserà numerose zone della città adreatica. Soddisfatto proprio il sindaco di Brino la prossima estate potremo già vivere nella città del futuro. Ha detto, vediamo. 3 milioni e mezzo di euro. Questa è la somma impiegata dall'amministrazione comunale di Termoli per il nuovo piano di riqualificazione urbana che coinvolgerà numerose zone della città. Ad aggiudicarsi il bando di gara per i lavori una ditta di Castelpetroso la stessa che ha già realizzato la passeggiata sotto le mura del Borgo Antico. Il progetto riguarderà principalmente Piazza Monumento, il Corso Nazionale, il primo tratto di lungomare nord e la Scala Chiocciola. Il restyling della città adreatica partirà da settembre e la ditta avrà 630 giorni a disposizione per effettuare i lavori pubblici che potrebbero quindi terminare prima dell'estate 2015. Importanti le novità non solo urbanistiche ma anche per la viabilità. Corso Nazionale diventerà isola pedonale non solo il pomeriggio ma per tutta la giornata. Inoltre per ciò che concerne il lungomare nord senso unico dal tratto iniziale fino all'ex viadotto in direzione vasto. Soddisfazione nelle parole del sindaco di Termoli Antonio Di Brino. Comincia a realizzarsi il sogno di una Termoli futura, una Termoli come l'ho sempre immaginata, come l'ho condivisa insieme al gruppo di maggioranza, a chi mi ha sostenuto in cammagna elettorale e che mi sta sostenendo in questa esperienza eccezionale, esperienza da sindaco, difficile, dura, impegnativa, ma veramente eccezionale perché magari delle idee cominciano a prendere corpo e quindi è un sogno che finalmente comincia a realizzarsi. Riqualificare la città di Termoli a partire dal centro, da Piazza Monumento a Corso Nazionale è una cosa che credo andava fatta già qualche anno fa, sono 40 anni che non si mette mano né al centro né a Piazza Monumento a Corso Nazionale, è arrivato il momento. La scala a chiocciola e il lungomare nord saranno i punti di forza della Termoli futura. Se eliminiamo quella bruttura, quello brobrio che è quella scala a chiocciola così come è oggi e la miglioriamo, la riqualificazione, così come ci è stata indicata la sovrintendenza, perché la mia idea era quella di farla brillare e di buttarla giù. Se poi a questo secondo progetto inseriamo anche quello del lungomare, dei due lungomari, ma in questo caso parliamo del lungomare nord, allora veramente daremo un volto nuovo alla città di Termoli. Spostiamoci a Macchiagodena dove c'è una comunità sotto shock per la prematura morte del piccolo Pietro di due anni che con la famiglia viveva in provincia di Firenze. Il bimbo è infatti deceduto la notte scorsa dopo essere scivolato nella rete del letto a cassello mentre dormiva. Vediamo. Un bambino di due anni la cui famiglia originaria di Macchiagodena, un paesino della provincia di Sernia, è deceduto la notte scorsa in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche dopo essere scivolato dal letto a castello. Secondo quanto appreso, il bambino che dormiva nella parte superiore del letto sarebbe rimasto incastrato con la testa tra la rete del letto e la struttura tubolare che sostiene il materasso, rimanendo con le gambe sospese nel vuoto quasi come impiccato. Il fatto è accaduto a Ruggello, in provincia di Firenze. Nella cameretta c'era anche la sorellina del bambino che dormiva e non si accorta di nulla. A mettersi in allarme per prima è stata la madre, svegliata dai lamenti, chiedendo anche aiuto ai vicini, ma il piccolo era già in fin di vita. Vani sono stati tentativi di salvarlo da parte dei medici. Sul colpicino del bimbo è stata disposta l'autopsia per stabilire le cause della morte. Non è scuso però che il piccolo sia scivolato nel sonno. In queste ore gli inguirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nei prossimi giorni la procura fiorentina potrebbe disporre una consulenza tecnica sul letto a castello per verificare la presenza di eventuali difetti di fabbricazione. Intanto la cameretta è stata posta sotto sequestro da carabinieri, comprensibilmente colpita la comunità di Macchia Godena dove la famiglia del piccolo era conosciuta da tutti. Bene, tutto il nostro telegiornale termina qui. Grazie per essere stati con noi e aver scelto ancora una volta l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Al di là delle parole se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella naturalmente bella naturalmente bella a Campobasso in via Campania 215. Previsioni del tempo per sabato 15 giugno. L'anticiclone sub-tropicale africano si impadronisce con più decisione delle regioni di sud-est amplificando ulteriormente l'avvicinamento all'estate su Molise, Basilicata e Puglia interessate da una splendida giornata di sole. Caldo in aumento con punte di 28-30 gradi sulle pianure interne. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali con mari generalmente poco mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 17 massima 30 gradi. Isernia minima 13 massima 27 gradi. Termoli minima 18 massima 26 gradi. Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella naturalmente bella naturalmente bella a Campobasso in via Campania 215 e a Campobasso